Onore e dignità, questo è il crucio. Buonasera Ministro Minniti. Ma anche ordine e disciplina, libro e moschetto, vincere e vinceremo. Non è il caso adesso di addentrarsi, insomma lasciamo... Prima, vedete il Ministro degli Interni, è un ministro, un ministero complicato. Complicato, beh immaginiamo. Ed è per questo che noi diciamo prima gli italiani. Prima gli italiani, vabbè questo non c'entra con... Vi voglio raccontare una striscia del Peanuts. Sì, grazie, va bene, no grazie, sì era... C'era Charlie Brown. Sì. Che camminava tutto impettito. Sì. Vabbè, non faccia anche... Impettito. Impettito, non è il caso, ma va bene. Dietro di lui tutta la fila di personaggi. Vabbè certo, sì. Linux, Mafalda, Ten-Ten. Sì, Mafalda e Ten-Ten, non sono dei Peanuts, ma vabbè insomma... Punto, Charlie Brown si ferma e si gira e dice... Sì. Se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. Ma non credo io di ricordare una striscia del... Non so se capite il ragionamento. Ma però è una frase... Ecco il senso del mio ragionamento. Quella però è una frase del ventegno. Non dimentichiamoci mai questa parola ventegno. Ma ma dimentichiamola invece perché... Perché io mi sento profondamente di sinistra. Ecco, ecco. Di sinistra, eh? Tre. Eh? Lo so che può sembrare strano, ma io mi sento profondamente di sinistra. Ce lo auguriamo anzi perché lei è del... Certo, una prima occhiata, ma anche alla seconda. Sì. Fino alla seconda dozzina di occhiate, io posso non sembrare di sinistra. Ma infatti ogni tanto viene un po' il dubbio che... Vabbè, adesso va. Non è chiaro. Sì? Io mi sento profondamente di sinistra. Benissimo, benissimo. Io vengo dalla sinistra e quando proveniente da sinistra do la precedenza a destra. No, però vedi che no. No, va bene, fino a un certo punto era perfetto. Non dovrebbe.